come è arrivato la cartolina di precetto dalla repubblica di salò c'erano occupati era occupato il paese da san marco e tedeschi sono stati lì un bel mese abbondante facevano saltare i cavalli e io a quel punto lì ho dovuto assentarmi perché se mi prendevano la fucilazione o per diserzione o oppure qualcosa di peggio anche e sono andato nelle fuori clandestinità insomma insieme altri partigiani più anziani che c'era martino anselmo detto bandito c'era pesce detto mi ricordo più il nome di battaglia comunque pesce era carabiniere nella nell'italia che è rimasta di badoglio è partito è venuto su direttamente il pesce detto il grigio ecco è venuto su dal posto di blocco di gorra c'era i repubblichini ma dove vai non sai che ci sono partigiani ma sono testori lui sapeva com'era insomma che se le ha presi e quanti le ha caricati tutte quelle armi che avevano lì le ha portate via le ha portate su non so dove si sia appoggiato come comunque aveva una bella grinta ecco e lì ci sarà stato 40 persone allora era all'inizio della formazione poi c'è questi libri qua come se è evoluta la questione arrivo su al corpo di guardia quasi al corpo di guardia mi prende una rafica proprio che non m'ha preso per un pelo ecco cristo ma la guardia la su dove vado giù di nuovo le dico lì al comandante Ernesto dico guarda che mi ha sparato la sua già sparata allora piano piano siamo andati a vedere in tedeschi tedeschi che avevano preso in ostaggio anche una una ragazza allora una ragazza che era nella cascina dove io ho abitato insieme a questo pesce il vecchio e insieme alla famiglia di questo grigio che era venuto come clandestino poi sono passato a essere proprio inquadrato a me forse anche dato i precedenti non non mi selezionavano in un certo modo ti inquadravano basta perché era sicuro ma quelli che non erano sicuri come dei san marco disertori tenero un po d'occhio e non l'antenuti d'occhio abbastanza perché il massacro del piano dei corsi lo dice ed evidente così il salvarsi da un rastrellamento voleva dire vivere quei giorni di rastrellamento come le volpi lo stesso se tu arrivavi che vedevi che c'era i tedeschi facevi marcia indietro piano piano cercavi di salvarsi a quel mondo lì perché altrimenti altrimenti cadevi nelle mani loro e ti massacravano come ha massacrato quei poveri cinque là su fotografato la lapide e io in quel rastrellamento lì non mi sono aggiunto al gruppetto che mi ha detto vieni con noi perché dico ci siete già troppi perché al massimo due se andate d'accordo perché altrimenti ci cade nelle mani c'è poco da fare cadere nelle mani dei tedeschi o dei fascisti voleva dire essere massacrati o uccisi per lo meno andava bene quando ti sparavano e basta invece andava come andava lungo la strada di murialdo la strada provinciale c'era tutti gli accampamenti delle di queste di questi repubblichini e tedeschi insieme e noi eravamo insieme a un altro oddone che non era mio parente dall'altra parte del del fiume senza strada senza niente siamo arrivati fino a ferriera nuova erano le due del mattino scartando tutte queste queste postazioni oddone aveva una cascina al di sopra delle di questa frazione che si chiama campo du loio campo del lago si chiama quella cascina li siamo arrivati lì c'è andato un pezzo di polenta che i ragioni che non toccavamo cibo e quello a 16 17 anni e dura mangiavamo le castagne che trovavano ancora commestibili delle volte non lo erano quasi più ma vai a vedere quelle robe lì c'è andato e poi siamo andati a dormire con fasciate dentro delle coperte dentro la foglia sopra la cascina di 150 metri e poi ho perso di vista lui perché io sono rientrato a casa sono rientrato in famiglia e come il beneplacido mio padre e ben contenti di vedermi ecco l'irrasteramento di novembre è stato micidiale proprio una cosa bestiale proprio e tanta gente tanti portigiani sono caduti proprio nei tranelli comunque forse l'intuito proprio personale di salvarti la pelle era quella di 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 marciare come la volpe nella nella foresta quando vedevi che c'era il pericolo tornava indietro e prendeva un'altra via siamo camminati davanti a murialdo centro fino a ferriera nuova per la montagna brutta o bella che fosse lì sentieri non ne vedevi però allora a quell'età hai una prestanza che poi io ho lavorato nell'officina elettrica di calizzano per cui ero praticamente sui tralicci come un acrobata